Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare della violenta ondata di maltempo che ha attraversato anche la provincia di Arezzo. Due i comuni particolarmente colpiti sono Pieve a Soacana e quello di Civitella in Valdichiana. I sindaci dei due comuni adesso hanno scritto al governatore Eugenio Gianni. Sono due i comuni dell'Aretino che hanno scritto in queste ore al presidente della regione toscana Eugenio Gianni perché i loro territori non sono nell'elenco tra quelli che rientrano nello stato di emergenza nazionale dopo le alluvioni del 2 novembre. Nel territorio della provincia di Arezzo a causare i danni non è stata la pioggia, bensì il vento. Una tromba d'aria che nella tarda serata del 2 novembre si è abbattuta su tutto l'Aretino causando ingenti danni soprattutto nei comuni di Civitella in Valdichiana e Castelfocognano. Erano circa le 11 di sera, fortunatamente la gente con l'acqua che stava venendo giù era tutta in casa perché potremmo aver avuto delle conseguenze anche più gravi perché la roba che cade dai tetti e la gente per strada sarebbe stata una catastrofe. Oltretutto, come abbiamo anche visto nei giorni scorsi, è stato interessato anche il nido da 0 a 3 e un tegolino proprio in quel nido si è conficcato nella porta d'ingresso e se fossero stati bambini dentro forse la situazione sarebbe stata anche più drammatica. Anche il comune di Civitella, come altri comuni, ha avuto nella notte tra giovedì e venerdì una tromba d'aria che ha già fatto cadere molte piante su case, su abitazioni, su strade e oltretutto molti tetti sono stati scoperchiati e quindi ho ritenuto doveroso chiedere al presagente Leggiani di inserire il comune di Civitella tra i comuni nell'emergenza nazionale per la Toscana. C'è stato anche un grosso danno ad un'azienda, ad un'impresa, che ha avuto addirittura un albero che è entrato dentro, lì ancora non si sa come fare. Sì, un albero privato che è cascato sopra la copertura di un calzaturificio e quindi sono bloccati, quindi non possono produrre, quindi hanno chiesto anche a impreditori e a chi ha disponibilità di fondi di trovare una collocazione per proseguire l'attività. Quindi possiamo lanciare un appello anche da questi microfoni per loro? Certo, senz'altro, so che si stanno muovendo, sono venuti anche da me e quindi stanno cercando un capannone per proseguire l'attività. I due sindaci sono ben coscienti, ci raccontano del fatto che nelle altre zone della Toscana, colpite dalle alluvioni, i danni sono ben maggiori. Per non parlare delle vite perse alle famiglie vanno ovviamente le più sincere condoglianze, ma questo, ci raccontano, era un atto dovuto per i nostri cittadini. Assolutamente sì, diventa un po' un attimino... Io non credo che relativamente a quanto stanziato per l'emergenza non si trovi i due spiccioli proprio, perché per loro sono due spiccioli che servono per risarcire anche i nostri cittadini, perché insomma credo che noi non siamo cittadini. I danni li abbiamo avuti come gli altri, anzi solidale per tutti i danni che sono stati procurati nella provincia di Prato, che è assolutamente grave, perché ci sono stati anche dei morti e lì purtroppo la situazione è ancora più drammatica. Però è chiaramente anche la nostra, che fortunatamente non è stata drammatica, perché Dio ha voluto che la gente fosse in casa, ma i danni economici, i tetti anche rifatti da qualche mese con i 110 che sono stati letteralmente distrutti. Il maltempo aveva portato in alcune zone della Toscana anche a giornate senza corrente elettrica, servizio che in queste ore sta tornando alla normalità, come annunciato direttamente da Edistribuzione, che in seguito ai disservizi provocati dalla forte ondata di maltempo, solamente nel territorio aretino erano state 100 le famiglie interessate dalla mancanza di corrente elettrica. Per le interruzioni prolungate, il servizio Arera prevede l'erogazione in bolletta di indennizi automatici per i quali non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta. Il governatore Gianni invece in veste di commissario delegato per l'emergenza chiede la sospensione di acqua, luce e gas, ma anche una tariffa agevolata per i maggiori consumi dovuti inevitabilmente al lavaggio delle case e delle aziende. In campo scende anche Sei Toscana, che si è attivata per mettere a disposizione mezzi e uomini per le operazioni di rimozione detriti e pulizia dei territori colpiti dalle alluvioni. Sei Toscana invierà nelle zone alluvionate sei mezzi attrezzati tra autocarri con cassone, un polipo caricatore, autotreni con rimorchio e scarrabile. Oltre a questi interventi, Sei Toscana ha promosso all'interno della propria struttura aziendale anche una raccolta di contributi volontari da parte dei lavoratori. E ancora cronaca adesso due arresti lungo la 1 per una lunga serie di furti negli aeroporti. A fermare i due ladri sono stati gli agenti della Polizia Stradale della sottosezione di Battifoglia la scorsa domenica, dopo che il centro operativo di Firenze ha diramato una nota di ricerca dell'auto, i cui occupanti erano sospettati di un furto di bagagli avvenuto all'aeroporto Fiorentino e danni di turisti. A bordo due giovani di 25-30 anni che sono stati accompagnati in ufficio dove l'auto è stata minuziosamente perquisita. All'interno è stato trovato di tutto, denaro, borse, valigie, borsoni e la refurtiva, insomma, come hanno accertato gli investigatori, che apparteneva ad una turista canadese che aveva presentato denuncia dando così avvio alle indagini. Ritrovate anche sei, tra carte di credito e debito, intestate a un cittadino americano che aveva denunciato il furto avvenuto all'interno dello scalo aereo di Roma-Fiumicino. Adesso torniamo a parlare invece della rota Valer ucciso in un appartamento di via Bologna. La Lega Nazionale in difesa del cane ha presentato denuncia. Quando è stato fermato dagli agenti è perso il stato confusionale. Ora saranno la magistratura e i medici a valutare se si tratta realmente di una persona con disturbi psichiatrici, ma l'associazione sporge denuncia per avere giustizia. Se è malato deve essere curato e messo nelle condizioni di non nuocere più ad altri animali o persone. Così Piera Rosati, presidente della Lega Nazionale difesa del cane, associazione che asporto denuncia per quanto accaduto in un appartamento del centro aretino dove un uomo, 32enne, con precedenti ha ucciso il suo cane, un Rottweiler, con una balestra per poi infliggergli ulteriori ferite con un coltello. Attimi di terrore che si sono consumati sul balcone di una palazzina di via Bologna. Ad allertare le forze dell'ordine è un vicino che ha assistito essere fatto al folle gesto. L'uomo, apparso subito in stato confusionale agli agenti ha detto di aver visto nel cane l'immagine del diavolo. Portato in psichiatria all'ospedale San Donato non è risultato aver assunto alcol o droga. Resta comunque ricoverato per le valutazioni e gli accertamenti del caso. Ci spostiamo a San Giovanni Valdarno per parlare dello stabile in località Centinale. Dopo il nostro servizio, la caldaia è stata rimessa in funzione. L'alloggio da subito è risultato invivibile sotto vari aspetti per il degrado, per la muffa, l'umidità. Quindi non alloggio adatti anche ad ospitare una famiglia con dei minori. Avevano denunciato pochi giorni fa ai nostri microfoni le condizioni in cui erano costretti a vivere. Infiltrazioni di acqua, umidità, muffa, presenza di topi, degrado e soprattutto senza acqua calda e riscaldamento. Adesso almeno la caldaia è stata rimessa in funzione in questi stabili che si trovano in località Centinale nel comune di San Giovanni Valdarno. Sono di proprietà di Arezzo Casa, la partecipata dai comuni di tutto l'Aretino. Non case popolari, ma abitazioni ad affitto calmierato. Molti di questi condomini denunciavano da tempo il degrado in cui si trovano gli stabili e da quando non era più in funzione la caldaia avevano anche smesso di pagare l'affitto in segno di protesta. Quindi ora ci vengono contestate queste morosità che di fatto esistono, ma esistono perché non siamo mai stati messi in condizioni di pagare e di vivere in maniera dignitosa. Una questione seguita dal sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, che si era interessata e dopo il sopralluogo dell'ASL dello scorso 11 ottobre aveva anche avviato un procedimento nei riguardi di Arezzo Casa per far sì che potesse ottemperare alla manutenzione straordinaria di sua competenza e soprattutto ripristinare la caldaia visto anche il brusco calo delle temperature. Un problema dunque è stato risolto, rimane il degrado denunciato da molto tempo dai condomini a fronte di canoni mensili per alcuni di loro insostenibili. Nella bolletta, accanto ad un canone di affitto che supera di poco i 300 euro al mese, molti di loro si trovano costi per servizi che fanno schizzare il costo mensile fino a 1000 euro. Diciamo, al canone veniva aggiunta sempre una somma a titolo di consumi, perché ero ben consapevole che ci sarebbe stato il metano e l'acqua in comune con gli altri condomini, però un conguaglio di una quota fissa che si aggira intorno ai 700 euro mensili. Motivo per cui il pagamento in realtà corrispondeva a una cifra tra i 1900 e i 1034 euro, impossibile per me da sostenere. All'inizio quando sono entrato qui pagavo 330 euro mensili e adesso siamo arrivati a pagarne 705,46. Con un alloggio che, pieno di infiltrazioni, con l'arredamento completamente da buttare, manutenzione esterna inesistente, crolla tutto, a me mi devono dire da dove tirano fuori cifre di 705 euro mensili. Della questione si era interessato anche il portavoce del Movimento 5 Stelle del Valdarno che adesso presenterà un'interrogazione comunale a San Giovanni Valdarno. Avere degli affitti che sfiorano dei valori che potrebbero essere tranquillamente quelli del centro storia di una grande città, siamo in periferia fra due comuni in una zona dimenticata da tutti è assurdo anche le spese che loro stanno sostenendo. Abbiamo dei giardini che ormai sembrano delle foreste amazzoniche, anche delle piante sono arrivate a altezza uomo, c'è un garage dove è diventata quasi una piscina e vivono una situazione che comunque è di degrado. Anche la zona, si sono trovati anche dei ratti in casa, quindi insomma non so cosa devono lamentare più di questo. in una San Giovanni Valdarno del 2023 che si apre anche a quella che può essere la piena inclusività, però da qui mi sembra dovremmo ripartire e risolvere questi problemi. Manca sempre meno la nuova edizione di Arezzo Città del Natale, nel cuore della città infatti è già iniziato l'allestimento. Il Natale ad Arezzo è davvero alle porte, qui in Piazza Grande come vedete alle mie spalle ma anche al Parco del Prato e all'interno del Palazzo di Fraternita è infatti già iniziato l'allestimento di Arezzo Città del Natale. È cominciato da pochi giorni di allestimento, saremo pronti ovviamente per la grande inaugurazione, sabato 18 novembre, ottava edizione di Arezzo Città del Natale, tante prenotazioni già arrivate appunto a ConfCommercio, quindi siamo molto contenti di riportare in città un evento di questo tipo. Le letterine a Babbo Natale sono già state appese in una maxiparete, mentre in Piazza Grande il Tirco Le Baite ha già fatto il suo ingresso. Al Prato si lavora per allestire invece il mercatino degli artigiani con 40 casette che farà da cornice alla ruota panoramica e alla pista di ghiaccio. Quasi pronto anche il bosco è incantato nel vialetto che porta in fortezza, che a sua volta ospiterà il Parco delle Meraviglie. I mercatini di Natale in Piazza Grande che si confermano e si allungano, perché quest'anno appunto arriveremo fino al primo di gennaio in Piazza Grande col villaggio tirolese e poi le attrazioni più divertenti e magiche per le famiglie, quindi la casa di Babbo Natale appunto qui nel Palazzo di Fraternita, la Lego House della Galleria d'Arte Contemporanea e poi tutte le attrazioni del Prato e della città del Natale, quindi un menù ricchissimo. 90 poi le assunzioni a fronte delle oltre 400 domande arrivate da altrettanti aspiranti candidati che la città del Natale ha già portato alla vigilia del grande evento. Ieri c'è stata la selezione del personale proprio in ConfCommercio e sono stati oltre 90 i ragazzi e le ragazze che sono stati appunto assunti per il villaggio tirolese, un indotto importante per la città, perché insomma daranno lavoro gli operatori tirolesi a circa 90 persone. Ottimi anche i numeri delle prenotazioni. Diciamo che i numeri sono già a buon livello, sia per la casa di Babbo Natale, sia per le prenotazioni alberghiere, chiaramente che sono quelle che contano e già i weekend dell'8 dicembre, del 2 e del 3 dicembre sono sold out e quindi ci aspettiamo anche che si riempiano le prime date. Un incontro per riconoscere ed affrontare la dipendenza da gioco d'azzardo è ancora un gioco, infatti è il titolo della serata di confronto e approfondimento in programma alle 21.15 di venerdì 10 novembre al Circolo Acri Gino Ralli di San Leo, dedicata alla tematica di stretta attualità, ossia la ludopatia a promuoverlo, le acli della Toscana, quelle di Arezzo, assieme a Darci Toscana e Danci Toscana all'interno del piano regionale di contrasto al gioco d'azzardo. E cambiamo argomento, anche ad Arezzo martedì 14 novembre si ricorda la giornata mondiale della diabete e in occasione di questa giornata i Lions Club hanno organizzato una camminata nel cuore della città. Faremo tre chilometri in compagnia di tutti quelli che vorranno partecipare. Lo scopo è quello di sensibilizzare nella prevenzione al diabete di tipo 2, un diabete che può colpire tutti nella nostra popolazione e una delle cose che ci permettono di prevenirlo è proprio il muoto. Il muoto è anche molto semplice, una passeggiata di mezz'ora al giorno ci permette di mantenere attivo il metabolismo e di combattere questa malattia. Una passeggiata nel cuore della città per la prevenzione del diabete. In occasione della giornata mondiale del diabete che quest'anno si celebra il 14 novembre, i Club Lions di Arezzo hanno organizzato per sabato 11 novembre alle ore 10 una camminata per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dell'attività fisica nella prevenzione e nella gestione del diabete di tipo 2. Ci troveremo tutti in Piazza Sant'Agostino, alle 10 partiremo per la passeggiata, saliremo per il corso e arriveremo fino al prato e poi scenderemo di nuovo giù verso Piazza Sant'Agostino dove i nostri volontari serviranno delle bevande ipocaloriche e uno spuntino sempre ipocalorico proprio perché non vogliamo aggiungere delle controindicazioni alle nostre prevenzioni. Ci saranno puscoli informativi che in modo molto semplice comunicheranno quello che è il diabete, quello che serve per evitarlo e come una corretta vita ci permette di stare lontani da questa malattia. Oltre al fine di...